Volevo solo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime, purtroppo dell'alluvione che è successa in Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subito danni, abitazioni e disagi in questo momento. Quindi credo sia molto più importante della partita, visto che sono cose che negli ultimi anni sono successe più volte. Quindi niente, voglio solamente dire questa cosa e ora possiamo parlare della partita di domani. Allora devo dare consigli a Chiesa Vlaucci, l'importante è che si metta a disposizione della squadra perché la squadra ha bisogno di tutti e cinque parchi attaccanti che abbiamo a disposizione e soprattutto facciano delle buone prestazioni. Noi sappiamo che per continuare su questa strada bisogna lavorare molto forte e duro. Come ho sempre detto bisogna lavorare sui nostri limiti, bisogna essere molto compatti, bisogna diventare un gruppo, una squadra granitica. Siamo sulla buona strada però quello che abbiamo fatto fino ad ora, che sono solamente dieci partite, non basta per arrivare all'obiettivo finale che è quello di entrare a giocare la Champions l'anno prossimo. Federico sta meglio, è stato 20 giorni praticamente che si è allenato poco nel periodo della nazionale e ora invece sta molto meglio, anche domenica quando è entrato ha creato delle situazioni importanti. Noi abbiamo un reparto d'attacco, ripeto, questi cinque giocatori che sicuramente ci devono dare molto in termini di gol e anche di gioco. È importante perché è Juventus-Fiorentina e quindi è sempre una bella partita anche per lo sfotto che c'è tra le due società, soprattutto le tifoserie. Giocare a Firenze è sempre stimolante, troveremo una squadra comunque forte, anche se arriva da due sconfitte, però è una squadra che è propositiva, è una squadra che gioca e quindi per venire a Firenze con un risultato positivo bisogna fare una bella partita sotto tutti i punti di vista. Ma questo non lo so, ci sono gli organi di competenza che decideranno, noi oggi ci alleniamo e poi partiamo per Firenze. L'importante è che la partita si svolga in una situazione di normalità. Per quello che potrà essere. Allora, De Sciglio, partiamo dall'ultimo, al De Sciglio credo tra un mesetto potrà incominciare, credo, un mesetto allenarsi con la squadra. Poi dopo vedremo e quindi anche lui sarà un rientro importante. Per quanto riguarda tra Alexander e Danilo, è più probabile che rientri il primo Alexander e Danilo. Perché? Perché Danilo ha avuto, abbiamo fatto un controllo sulla piccola lesione che ha avuto e non è ancora a posto. E visto che la lesione è molto profonda, le lesioni molto profonde di solito, anche se sono piccole, ti ingannano perché non ti danno dolore, ma ti creano molto danno se non recuperi nei tempi giusti. Allora, parlando con i dottori e con Danilo, evitando rischi ulteriori, e visto che non è ancora messa a posto la lesione, sicuramente ritarderà e credo che rientrerà dopo la sosta. Speriamo di riaverlo con l'Inter.